Oltre agli acquisti, i mercatini e gli alberi di Natale, le festività natalizie possono essere l'occasione anche per visitare i musei ricchi di storia e di arte. È quello che è stato presentato questa mattina dall'assessorato alla cultura insieme ai responsabili del sistema museale di Fano, ovvero un contenitore di eventi dal 16 dicembre a gennaio, fatto di visite guidate, laboratori per bambini e famiglie e infine momenti musicali coinvolgendo il Palazzo Malatestiano e il Museo della Flaminia al Pincio. L'evento si aprirà venerdì 16 alle ore 17 con l'inaugurazione della mostra, i registri malatestiani e l'arte militare nel primo rinascimento all'interno della Sala Morganti. A corollare di questa mostra ci sarà una serie di iniziative legate al Grand Tour Cultura, organizzato dall'assessorato alla cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura. Ogni anno la Regione Marche ci invita a partecipare a questo Grand Tour Cultura. Si tratta di visite guidate, visite interattive e laboratori per famiglie e bambini legate appunto al tema del Grand Tour di quest'anno, ovvero mettiamoci in gioco, per cui sarà possibile imparare, sarà possibile per i bambini imparare giocando, divertendosi. Tutte queste iniziative sono state realizzate con la collaborazione delle nostre due cooperative che gestiscono i servizi museali, ovvero Gradare Nuova e Meridiana Cooperativa Sociale. C'è anche un prezioso intervento dell'associazione La Pandolfaccia che organizzerà appunto un accampamento all'interno della Corte Malatestiana con dimostrazioni sulle armi e due visite a cura appunto dei organizzatori della mostra, ovvero l'archivio di Stato e il servizio bibliotecario. Particolarità di questo appuntamento è la musica con l'iniziativa Risuonano i Musei, una serie di quattro concerti allestiti all'interno della Pinacoteca del Palazzo Malatestiano curati da FanoJets Network. La prima esibizione si terrà il 29 dicembre alle ore 18.30. Il programma completo è visibile sul sito e sui social di Fano Cultura. I visitatori potranno ammirare le opere d'arte del museo e ascoltare la musica. Il museo è uno dei beni più preziosi che ha la nostra città, che è la terza città delle Marche. Ha delle criticità che è bene conoscere perché poi andranno sistemate, sanate e quindi la città deve riappropriarsi del museo, entrare dentro il museo e rinnamorarsene. Poi ci saranno una serie di iniziative per mettere in rete il museo con le altre realtà culturali della città, quindi abbiamo la sezione archeologica che dialogherà direttamente con il museo della Via Flaminia. Insomma, un Natale dedicato alla cultura e dedicato alla città. Speriamo che i cittadini ne approfitteranno e sapranno godere di questo tesoro e di questo patrimonio.